Volevo sapere come sta andando la vostra routine giornaliera, se è migliorata, peggiorata o sempre uguale. Poi volevo sapere se qualcosa che avete iniziato a fare in quarantena lo continuerete ma anche dopo. Io continuo sempre l'allenamento tutti i giorni, lo faccio per 6 giorni alla settimana, lo fermo la domenica tanto per dare un senso di differenza tra i giorni. Devo trovare un modo per rendere lunedì una giornata di merda come era una volta, tanto per distinguorlo un po'. Oggi comunque è il giorno che trasmetti il radio quindi scappo dentro. Il giorno che trasmetti il radio c'è un problema perché Stefano Matara mi dice 3 minuti prima quale app useremo oggi per collegarci. Io devo essere velocissimo, aprirla, attivarla e collegarmi. Penso sia ora già di tagliarmi i capelli ormai eh. Chissà che fila poi dei parrucchieri quando sarà il momento di riaprire. Dimenticavo, il mercoledì c'è anche Marco Kavax. Te l'ho fatta, te l'ho fatta, te l'ho fatta. Ho avuto mezzo sospetto perché ho pensato adesso ma perché fa la sigla alle 16 e non le fa alle 15? Grazie, grazie, grazie. Allora, come stai Gianmarco Kavax? Io sto bene, l'ora che mi hai dato libera prima di iniziare a fare la diretta sono andato fuori a prendere il sole. Praticamente mi è arrivato un libro di ricette perché ormai sono così famoso per la cucina che mi mandano anche i libri di ricette per farti capire a che livello siamo arrivati. Da questo libro ho scelto tre ricette di cui avevo a casa gli ingredienti perché altrimenti insomma era un bel problema. Anche per oggi ho finito la diretta su Radio Wow. Stasera per fortuna non tocca a me cucinare quindi giorno di riposo. Per oggi è finito, ci vediamo domani. Grazie. Grazie a tutti.